Eccoci qua ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della mod vita da gangster, siamo qua con Ronaldo e stamattina faremo i sicari di Pablo Escobar, infatti siamo qua nella villa di Pablo e finalmente è tornato questo, T-Max 530 di Pablo Escobar, infatti vedete Escobar 1, California T-Max nero, bianco ragazzi, anzi no, questo nero mixato, acciaio, spacca tantissimo Comunque ragazzi, vado un attimo da Pablo Escobar, infatti ragazzi guardate abbiamo un numero, si chiama Middleman e questo qua ragazzi, quando gli faccio comunque la chiamata, lui ci dice tutto, chi dobbiamo ammazzare, dove sta, se sta in macchina, se c'è qualcuno ci dice tutto ragazzi, perché queste qua sono tutte persone che hanno fatto uno sgarro a Pablo Escobar o che non lo hanno pagato, o che hanno portato spia alla polizia, o che hanno parlato male di lui e quindi sono tutte persone che Pablo Escobar non vuole che sono in vita e allora ragazzi li ammazziamo noi, ci pensano a Cristiano Ronaldo, stamattina sarà il sicario di Pablo Escobar ehm, signor Pablo Escobar, io se non pronto vado, le faccio sapere dopo ok, intanto adesso faccio la prima telefonata Middleman, vediamo un po' che ci dice ok, ah ok, mo ho detto che ci manda il contatto l'obiettivo, intanto andiamo qua sopra ragazzi, non vedo l'ora T-Max ok, stiamoci in prima persona con questo ok ragazzi, abbiamo subito un primo obiettivo ehm, Chill on Los Santos Freeway, quindi l'autostrada sta qui proprio, andiamo subito, vai vai, facciamo volare questo T-Max vai, 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 corri lo abbiamo in autostrada comunque guardate quanti agili ok uh, agilissimo questo T-Max vai, vai, che ti ammazzo, vai, che ti ammazzo sei qui eh ha della scorta facciamo attenzione facciamo attenzione da parte di Pablo Escobar ottimo ragazzi, vai, 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 scappiamo, scappiamo, scappiamo seminiamo la polizia, abbiamo due stelle vai, vai T-Max, vola, vola T-Max giù in carena facciamo attenzione qua, oddio polizia qui, rallentiamo oh, bene ragazzi, 2421 dollari prossimo obiettivo, wind on Senora Way Senora Way è qui ok, andiamo subito corri, 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 corri vai Ronaldo giù in carena con il tuo scooter, dai ciao polizia ciao polizia eh, sono anch'io un vostro collega e ammazziamo tutti a questi traditori questi spioni chiunque abbia parlato male di Pablo Escobar morirà ragazzi ok, sono qui facciamo attenzione eccola qui salve messaggio da Pablo Escobar vai, andiamo ragazzi lasciamo l'aria aspettiamo la prossima chiamata ok, 7000 dollari per quella persona quanto era importante quella 7000 dollari ok, dai datemi la prossima prossimo obiettivo ok vediamo un po' ok pizza is in patriot ok, patriot ragazzi in un patriot una specie di veicolo ok quanto sta volando quanto sta volando sto scooter eh ma questo corre questo sta correndo ma che ti prendo ma che ti prendo eh sì si è fatto un bel giro questo oh viene verso di noi viene verso di noi scendiamo facciamo attenzione ragazzi perfetto vai tutti morti ragazzi dobbiamo solo seminare la polizia vai ragazzi abbiamo questo prossimo obiettivo di qua vediamo un attimo l'ora sono le 21.19 si sta facendo molto tardi eh vediamo un po' oddio quanta gente quanta gente scendi 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 da parte di Pablo Escobar arriva per una macchina ragazzi non erano soli questi qua arriva per una macchina venite 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 ah no no ok questa quella gang di questo posto qui ok scappiamo scappiamo scappa 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 vai Ronaldo non ti far fregare da questi dai ok vai qua corri qua corri ottimo vai ragazzi li stiamo seminando oh perfetto 3846 dollari abbiamo un prossimo obiettivo su Alamo Road vai oh attento guardate i lost e andiamo dall'Homo Road qual'è il problema li ammazziamo tutti è un messaggio da parte di Pablo Escobar la gente deve stare ferma ragazzi piano piano vediamo come stanno questi se stanno a piedi ok si ma è solo è solo perfetto uh aveva anche un'arma ok 1400 dollari datemi il prossimo dai datemi il prossimo ok il prossimo è di qua oh questi qua stanno in macchina questi qua stanno in macchina andiamo un po' shh si sono anche scortati sono anche scortati ragazzi mannaggia sono anche scortati quindi facciamo un fuoriprimo a questi da parte di Pablo da parte di Pablo ok vai inseguiamo quello polizia o non polizia ce ne freghiamo ragazzi deve morire dobbiamo finire il lavoro ok ottimo 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 andiamo 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 vai uh seminiamo questi maledetti poliziotti ok perfetto ragazzi di nuovo seminati yeah prossimo obiettivo è in un other ok da questa parte qui vai dove vai vediamo sempre se è scortato stiamo attenti erano comunque tutti vicini a Pablo avete visto questi posti sono molto vicini ok siamo in strada a breve cerchiamo di capire se è scortato si è scortato quanti quanti ok ho capito cosa devo fare ok pre questi quanto sta correndo questo quanto sta correndo questo oddio fermatelo corri vai ronaldo spingi questo tmax ora facciamo questa ragazzi e ci fermiamo che si è fatto tardi eccolo qua ah no perfetto torniamoci verso lo santos che tempo perfetto ragazzi li abbiamo seminati ottimo ci andiamo in città ragazzi e andiamoci a nascondere comunque io finisco qua questo video ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate e poi ovviamente sicuramente faremo altre cose con Pablo Escobar ed è ragazzi con questo è tutto e ci sentiamo al prossimo episodio ciao ragazzi ciao 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 ciao